Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Per Amazon all'Interporto è scattata la settimana determinante per concludere le trattative. Sono infatti scaduti termini per la presentazione di eventuali osservazioni alla variante urbanistica e l'intervento edificatorio per una superficie di oltre 66.000 m2 potrebbe veramente partire. Io continuo ad essere ottimista. Ovviamente la strada è ancora in salita. Le osservazioni che sono giunti dagli enti non ci preoccupano. C'è una terza osservazione di un'azienda insalubre che lavora nella zona, che contesta alcune parti della variante. Però credo che sono osservazioni che possono essere in qualche modo aggiustate. Quindi se si riesce a chiudere il pacchetto poi si va verso il contratto tra Amazon Scannell e quindi sostanzialmente il coinvolgimento del Comune e della Regione per ciascuno di loro competenze. È chiaro che l'attore centrale rimane la società Interporto S.P.A. Marche che è quella che gestisce l'operazione. E i tempi da questo punto di vista? Presto che tardi. Prima è, meglio è. Credo che dopo l'estate si può chiudere tutto. Perché ci sono 30 giorni adesso per rispondere alle osservazioni, poi c'è l'approvazione. Insomma, parliamo che già a settembre potremmo essere avanti. Ecco, a settembre potrebbe essere davvero il momento della svolta da tutti i punti di vista. A quel punto cosa accadrebbe? Accadrebbe che con il contratto riprendono i lavori. Il contratto Scannell Amazon per la costruzione degli edifici sarebbe il primo maxi capannone in cui prenderebbero poi una volta ultimato 700 persone, i primi 700 lavoratori, che poi raddoppierebbero perché addirittura gli edifici diventerebbero tre. Un investimento di milioni di euro che sarebbe il centro più importante di Amazon nel centro Italia ma anche per servire il centro Europa.